Tragico incidente mortale, nel tardo pomeriggio di giovedì presso il ponte Cadore, poco prima delle 18 si è verificato uno schianto che ha coinvolto quattro vetture, si segnala una vittima, Sara Candeago, 19enne di Pieve di Cadore e 5 feriti. Lo scontro è avvenuto all'altezza del Cippo, posto sulla destra della strada in direzione nord. Dopo l'impatto che ha devastato la Clio della 19enne, si è tentato il tutto per tutto per rianimare la ragazza. Gravissima e in stato di inconscienza, la giovane è stata stabilizzata dal personale del 118, quindi intubata e trasferita con l'eliambulanza all'ospedale di Treviso. Non c'è stato però nulla da fare, il trauma riportato nell'incidente era troppo severo. Degli altri 5 feriti, 3 persone sono state trasferite all'ospedale di Pieve di Cadore a bordo delle ambulanze. Si tratta di due trevigiani e di una persona residente a Pieve di Cadore. Il traffico lungo la statale 51 è stato momentaneamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso, salvo poi riprendere a senso alternato e in serata tornare al flusso regolare. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per gli accertamenti del caso.